La handbol erice ha voltato pagina, da qualche giorno le arpie sono al lavoro per preparare la nuova stagione sportiva. Tanti volti nuovi nella rosa a partire da coach Ignacio Gnaci. Ai nostri microfoni è intervenuto il capitano Lorena Benincasa. Abbiamo cominciato una nuova stagione con nuovi obiettivi, nuove energie. Diciamo che il caldo di Trapani non ci aiuta, però stiamo lavorando. Lavoriamo mattina e pomeriggio, la mattina tra palestra Piesi e palazzetto, la sera tanto campo con il nuovo staff tecnico. Diciamo che è partita la nuova stagione. Nuove energie ma tanti nuovi volti. Sì, diciamo che abbiamo voltato pagina. Ci sono giocatrici che ci hanno salutato, sono arrivate tanti altri giocatrici nuove che ci hanno dato nuova linfa. Ovviamente, come dice sempre la nostra società, abbiamo alzato per l'ennesima volta l'asticella. Adesso la parola passa al campo. Sicuramente proveremo a dare il nostro 100% sempre. Partiremo dalla settimana prossima dal primo torneo che sarà a Nuoro e poi ci aspetta subito il 31 di agosto la Supercoppa.